Adesso la contrazione dell'export è nero su bianco. Nel 2020 le vendite all'estero dalla provincia di Lucca si sono fermate a 3.908 milioni di euro, un valore in calo del 4,4% rispetto all'anno precedente. Tuttavia l'andamento complessivo provinciale, seppur negativo, risulta migliore di quello registrato in Toscana e in Italia. Nel corso dell'anno le esportazioni toscane sono scese del 6,2%, mentre in Italia le vendite all'estero sono calate del 9,7%. Gli acquisti dall'estero della provincia di Lucca sono diminuiti dell'11,9% nel corso dei 12 mesi. Simile la dinamica registrata a livello nazionale, mentre la Toscana ha chiuso l'anno con un più 5%, condizionata fortemente dagli ingenti acquisti di metalli preziosi della provincia di Arezzo. Sono questi i principali risultati che emergono dall'analisi dei dati Istat sul commercio estero effettuata dall'ufficio studi della Camera di Commercio di Lucca. In generale, il rallentamento dell'economia a livello globale ha determinato una significativa contrazione della domanda mondiale e conseguentemente degli scambi internazionali. Nella provincia di Lucca il cartario regge l'urto della pandemia, confermandosi il primo settore provinciale per vendite all'estero, con 918 milioni di euro nell'anno, un valore in calo dello 0,4% rispetto al 2019. La cantieristica nautica ha esportato natanti per 678 milioni di euro nel 2020, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Sono cresciute invece le vendite all'estero dell'industria alimentare e del tabacco, grazie all'ottima dinamica registrata a partire dal secondo trimestre. I maggiori incrementi hanno interessato la vendita di olio d'oliva e semi.